Wella a tutti youtubers, benvenuti in un nuovo video, benvenuti nel video dell'estrazione del nostro contest per i nostri 100 video Bene, siamo qui, finalmente è arrivato il 18 gennaio, io sono qui con Francesco e Niki Ciao a tutti ragazzi Bella a tutti ragazzi Benissimo, allora, iniziamo subito ragazzi perché prima vogliamo fare un elenco di tutti i partecipanti del nostro concorso e sono stati veramente tanti, vai Francesco Sì, allora, prima di tutto vorrei ringraziare appunto tutti i partecipanti che all'inizio diciamo erano un po' pochi infatti diciamo pensavamo anche di chiudere il contest proprio perché nessuno aveva partecipato ma poi grazie all'aiuto del nostro grandissimo amico GamesRise appunto i partecipanti sono saliti addirittura a 22 e appunto i partecipanti sono questi che adesso andrò ad elencare uno per uno allora Perfetto ragazzi, questi erano i partecipanti del nostro concorso Bando alle cianci, scusate, io direi di iniziare subito con la nostra estrazione do l'onore a Niki di Farman Grazie Stefano, siamo su random.org, un sito che dà numeri random ho inserito il minimo a 1 e il massimo a 22 perché siete 22 partecipanti ragazzi, siete veramente tantissimi e quindi che dire, scopriamo un po' chi è il vincitore Generate! E il vincitore è il numero 9! Numero 9 che è DavidRush94, complimenti! Esatto, DavidRush94 ricordo che vince 10 sponsorizzazioni in 10 nostri video più il box dei consigliati a vita e l'assistenza tecnica su Youtube illimitata per il premio facoltativo che vi sto per dire che è il pacchetto di giochi contenente 3 giochi che sono Little Inferno, Party of Sin e Castle Crashers che sono 3 giochi bellissimi e quindi il vincitore può decidere se prendere questo pacchetto oppure no se mai dovesse avere problemi ha assistenza illimitata sul nostro canale su Youtube o volendo al massimo potremmo anche aiutarlo oppure su Skype quindi il vincitore è questo grande David ringraziamo tutti gli altri che hanno partecipato e non hanno vinto e che dire ragazzi date un'ultima parola a questo contest per chiuderlo in bellezza Sì allora io inizierei dicendo innanzitutto complimenti al nostro vincitore David Rush vorrei ringraziare tutti i nostri partecipanti che sono stati davvero tanti GamesRise che è stato lo sponsor del nostro concorso e tutti voi che avete partecipato niente di che vi ricordo un'ultima cosa che il vincitore riceverà una mail diciamo chiamata così un messaggio tramite Youtube nel quale molto lungo nel quale spiegheremo tutto quello che deve sapere riguardo ai nostri premi e anche al premio facoltativo Sì appunto inoltre potrà anche contattarci oltre che via Youtube anche se magari vogliamo parlare meglio del fatto appunto dei giochi anche su Skype giochi di cui appunto Little Inferno e Castle Crashers abbiamo fatto il gameplay e Part of Scene che arriverà a breve Perfetto ragazzi io allora saluterei tutti e chiuderei qui Ciao a tutti Ciao 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 A un certo punto mi sono un po' cacato mi sa che tipo ho detto Bomber e un numero che non si fa se non è in terra non lo so Ok Ok Sì e io non parlo vai Ok Se esce GameZry se lo rifacciamo perché non è in terra Ok